Brigida, a lei Guardi Presidente, solo per unirmi alle congratulazioni al Presidente della Regione Calabria che oggi è il Presidente di tutta la Calabria non solamente di una parte, i cittadini della Calabria ci saremmo aspettati un applauso bipartisan in quest'Aula abbiamo visto grande freddezza dagli amici del centrosinistra che si sono ben guardati da dare un segno di unità che avremmo voluto ritrovare in quest'Aula nel salutare un collega Presidente della Regione ora vorrei dire che personalmente l'azione del collega Occhiuto che conosco per qualità sarà sicuramente all'altezza della compianta di Ole Santelli che ha annunciato un'azione di grande rinnovamento in Calabria però Presidente, mi permetto anche di sottolineare un fatto noi accoglieremo ovviamente il collega Letta tornato tra questi banchi grazie al voto in un collegio per le politiche in quel di Siena dove tanti cittadini, non tantissimi peraltro però perché c'è stato un grande assenteismo in quel collegio hanno però potuto votare per le elezioni politiche ricordo ai colleghi del PD quando davano degli irresponsabili a quelli di Fratelli d'Italia che chiedevano di votare per le politiche per trovare la possibilità di rioccupare una poltrona in questa assise al segretario del PD i cittadini italiani possono votare per invece scegliersi un Parlamento che sia rappresentativo della loro volontà e un governo omogeneo invece non potevano votare quindi la responsabilità oggi di una democrazia a fase alterne è tutta nei banchi del PD che si conferma frutto di democrazia ipocrita grazie Presidente Rovira questo di intervenire